Il 2 agosto scorso, intorno alle 4 del mattino, un uomo di 40 anni fu brutalmente aggredito e pestato nel parcheggio antistante un noto nightclub di Martinsicuro. Questa mattina all'alba, in seguito a lunghe ed accurate indagini, i carabinieri di Alba Adriatica, coadiuvati dai reparti territorialmente competenti, hanno arrestato a Martinsicuro e a San Benedetto del Tronto sei persone che ora dovranno rispondere dell'accusa di tentato omicidio. La vittima del pestaggio, picchiata con calci e pugni e colpita anche con delle sedie, riportò infatti gravi ferite e lesioni, in particolare alla testa, che sulla base di quanto certificato dai referti clinici avrebbero potuto provocare la morte del quarantenne, che invece fortunatamente se la cavò con una prognosi di 90 giorni. La notte dell'aggressione fu una telefonata al 112 ad allertare i carabinieri di Alba Adriatica, i quali giunsero immediatamente sul posto, soccorrendo il malcapitato, che come ricostruito successivamente dagli inquirenti era un avventore del night. L'aggressione sarebbe scaturita da una lite per futili motivi, in seguito alla quale i sei indagati avrebbero prima cerchiato e poi selvaggiamente picchiato il quarantenne. Le successive indagini, condotte dai carabinieri di Martinsicuro, hanno fatto perno su numerose testimonianze oculari, sull'esame dei filmati carpiti dal sistema di videosorveglianza del locale, sull'analisi dei tabulati telefonici e sull'acquisizione della documentazione medica. Tutte attività che hanno permesso di ricostruire con esattezza la dinamica dell'aggressione ed identificare i presunti autori del pestaggio, inducendo il GIP del Tribunale di Teramo, su richiesta della Procura, ad emettere l'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti dei sei arrestati. In seguito alla cattura dei presunti aggressori, nel corso delle perquisizioni a carico di una delle sei persone finite in manette, sono state inoltre rinvenuti, sotterrati in un terreno a San Benedetto del Tronto, un fucile calibro 12 a canne mozze con matricola brasa, due pistole, una delle quali con matricola brasa, e un involucro contenente 10 grammi di cocaina. Sia le armi che la droga sono state sottoposte al sequestro.